5.000 creviti Quanto cazzo sono a Bismarck, Bismarck, Bismarck Allora fai tutto indietro, tutto indietro Tutto indietro Trasferimenti, ok Superate una Subitoito, vai subitoito 800, perfetto Non mi hanno bannato da FIFA tre volte in tre giorni Tre volte in tre giorni? Sì Vabbè però io facevo in bim Però poi io ero sempre là Con i giocatori fortissimi Non perché ne ha visti i giocatori Nonostante fui bannato a mezzo a studio Eh fra Le delle delle zb Ah è la seconda minchiata Allora, venite, credo che fanno una lobby notte. A posto. Ho fatto uno 18 e qualcosa. Stiamo pure sotto al ponte. Ok. No. Che? Dove? No, questo lo devo salvare. Grazie. Grazie.